Cari fratelli e sorelle, nella Messa di giovedì a Bogotà abbiamo ascoltato la chiamata di Gesù ai Suoi primi discepoli. Questa parte del Vangelo di Luca, che comincia con quel racconto, culmina nella chiamata dei dodici. Cosa ricordano gli evangelisti tra i due avvenimenti? Che questo cammino di sequela ha richiesto nei primi seguaci di Gesù un grande sforzo di purificazione. Alcuni precetti di vieti e comandi li facevano sentire sicuri. Compiere determinate pratiche e riti li dispensava dall'inquietudine di chiedersi che cosa piace al nostro Dio. Gesù il Signore indica loro che obbedire è camminare dietro di Lui e che quel camminare li poneva davanti alle brosi, paralitici, peccatori. Questa realtà domandava molto di più che una ricetta, una norma stabilita. Impararono che andare dietro a Gesù comporta altre priorità, altre considerazioni per servire Dio. Per il Signore e anche per la prima comunità è di somma importanza che quanti ci diciamo discepoli non ci attacchiamo a un certo stile, a certe pratiche che ci avvicinano più al modo di essere di alcuni farisei di allora che è quello di Gesù. La libertà di Gesù si contrappone alla mancanza di libertà dei dottori della legge di quell'epoca che erano paralizzati da un'interpretazione e da una pratica rigoristica della legge. Gesù non si ferma ad un'attuazione apparentemente corretta e gli porta la legge al suo compimento, alla sua pienezza e perciò vuole porci in quella direzione, in quello stile di sequela che suppone andare all'essenziale, rinnovarsi e coinvolgersi. Sono tre atteggiamenti che dobbiamo plasmare nella nostra vita di discepoli. Il primo, andare all'essenziale. non vuol dire rompere con tutto, rompere con ciò che non si adatta a noi, perché nemmeno Gesù è venuto ad abolire la legge, ma a portarla al suo compimento. E piuttosto, significa piuttosto andare in profondità a ciò che conta e ha valore per la vita. Gesù insegna che la relazione con Dio non può essere un freddo attaccamento a norme e leggi, né tantomeno un compiere certi atti esteriori che non portano a un cambiamento reale di vita. Nemmeno il nostro discepolato può essere motivato semplicemente da una consuetudine, perché abbiamo un certificato di battesimo, ma deve partire da un'esperienza viva di Dio e del suo amore. Il discepolato non è qualcosa di statico, è invece un continuo movimento, un continuo cammino verso Cristo. Non è semplicemente attaccarsi alla spiegazione di una dottrina, ma l'esperienza della presenza amichevole, viva e operante del Signore. Un apprendistato permanente per mezzo dell'ascolto della Sua parola. E questa parola l'abbiamo ascoltata, ci si impone nei bisogni concreti dei nostri fratelli. Sarà la fame dei più vicini nel testo oggi proclamato, o la malattia in ciò che narra Luca nel seguito. La seconda parola, rinnovarsi. Così come Gesù scuoteva i dottori della legge perché uscissero dalla loro rigidità, anche adesso la Chiesa è scossa dallo Spirito perché lasci le sue comodità e i suoi attaccamenti. Il rinnovamento non deve farci paura. La Chiesa è sempre in rinnovamento. Ecclesia sempre riformanda. Non si rinnova a suo capriccio, ma lo fa ferma e ben fondata nella fede, irrimovibile nella speranza del Vangelo che ha ascoltato. Il rinnovamento richiede sacrificio e coraggio, non per considerarsi migliori o impeccabili, ma per rispondere meglio alla chiamata del Signore. Il Signore del Sabato, da ragione d'essere di tutti i nostri comandamenti e precetti, ci invita a ponderare le norme quando è in gioco il seguire Lui. Quando le sue piaghe aperte, il suo grido di fame e sete di giustizia ci interpellano e ci impongono risposte nuove. In Colombia ci sono tante situazioni che richiedono dai discepoli di vivere lo stile di vita di Gesù, particolarmente l'amore tradotto in atti di non violenza, di riconciliazione e di pace. La terza parola è coinvolgersi. Anche se per qualcuno questo può sembrare sporcarsi o macchiarsi, come Davide e i suoi che entrarono nel Tempio perché avevano fame e i discepoli di Gesù entrarono nel campo di grano e mangiarono le spighe. così oggi a noi è chiesto di crescere in audacia, in un coraggio evangelico che scaturisce dal sapere che sono molti quelli che hanno fame, hanno fame di Dio. Quanta gente ha fame di Dio, fame di dignità perché sono stati spogliati e mi chiedo se la fame di Dio in tanta gente forse questo avviene perché con il nostro atteggiamento noi li abbiamo spogliati e come cristiani aiutarli a saziarsi di Dio non ostacolarli come avviene o proibire loro questo incontro. Fratelli, la Chiesa non è una dogana, vuole le porte aperte perché il cuore del suo Dio è non solo aperto ma è trafitto dall'amore che si è fatto dolore. Non possiamo essere cristiani non possiamo essere cristiani che alzano continuamente il cartello di proibito il passaggio né considerare che questo spazio è mia proprietà impossessandomi di qualcosa che non è assolutamente mio. La Chiesa non è nostra fratelli, è di Dio. Egli è il padrone del Tempio e della Messe. Per tutti c'è posto. Tutti sono invitati a trovare qui e tra di noi il loro nutrimento. Tutti. E lui che ha preparato le nozze per il figlio manda a chiamare tutti sani e malati buoni e cattivi tutti. Noi siamo semplici servitori e non possiamo essere quelli che ostacolano tale incontro al contrario Gesù ci chiede come ha fatto coi Suoi discepoli dategli voi stessi da mangiare. Questo è il nostro servizio. Mangiare il pane di Dio. Mangiare l'amore di Dio. Mangiare il pane che non si va a sopravvivere e il pane che ci aiuta a sopravvivere. Lo aveva capito bene Pietro Claver che oggi celebriamo nella liturgia che domani venererò a Cartagena. Schiavo dei neri per sempre. Fu il motto della sua vita perché comprese come discepolo di Gesù che non poteva rimanere indifferente davanti alla sofferenza dei più abbandonati e oltraggiati del suo tempo e doveva fare qualcosa per alleviarla. Fratelli e sorelle la Chiesa in Colombia è chiamata a impegnarsi con maggiore audacia nella formazione di discepoli missionari come abbiamo segnalato noi vescovi riuniti ad Apparecida discepoli che sappiano vedere giudicare e agire come proponeva quel documento latinoamericano nato proprio qui in queste terre discepoli missionari che sanno vedere senza miopie ereditarie che esaminano la realtà secondo gli occhi e il cuore di Gesù e che da lì la giudicano e che rischiano agiscono si impegnano sono venuto fin qui proprio per confermarvi nella fede e nella speranza del Vangelo rimanete saldi e liberi in Cristo saldi e liberi in Cristo perché ogni fermezza in Cristo dà libertà così da rifletterlo in tutto quello che fate abbracciate con tutte le vostre forze la sequela di Gesù conoscetelo lasciatevi chiamare e istruire da Lui cercatelo nella preghiera e lasciatevi cercare da Lui nella preghiera annunciatelo con la maggiore gioia possibile chiediamo per intercessione della nostra madre la Vergine della Candelaria che ci accompagni nel nostro cammino di discepoli affinché ponendo la nostra vita in Cristo siamo semplicemente missionari che portiamo a tutti la luce e la gioia del Vangelo a tutte le genti grazie grazie grazie